Ciao a tutti, siamo all'isola che non c'è, oddio c'è Peter Pan, oddio una bestia, ragazzi non vediamo più, siamo stufi di tutto ciò, guardate no, siamo stufi, vogliamo tornare a casa a lavorare perché c'è bisogno di lavorare, lavorare, come vede, lavorare, miracchi, non c'è bisogno di lavorare, 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 non c'è bisogno di lavorare,